L'impegno di spesa per entrare in maniera efficace e duratura nei mercati esteri varia a seconda del prodotto-servizio proposto e del mercato. Si va da alcune decine di migliaia fino ad alcune centinaia di migliaia di euro di investimento per prodotti che richiedano l'ottenimento di autorizzazioni particolari, certificazioni, permessi e o l'apertura di punti vendita diretti al pubblico. Ancora una volta, l'approccio consigliabile è quello di procedere per gradi. È importante infatti aver destinato fin dall'inizio delle risorse specifiche, sulla base di un business plan, per sostenere il processo di espansione all'estero. Se non possiedi i fondi, devi sapere che esistono molte risorse a livello nazionale, comunitario e talora anche nello stato in cui si intende fare business.